Bene, siamo live, salve a tutti e benvenuti a questa nuova diretta. È finito il primo trimestre ed inizia Q2 del 2024. Primo trimestre molto interessante, ne abbiamo visto di tutti i colori, soprattutto per chi segue gli aspetti macroeconomici e per chi segue i mercati finanziari. Ne abbiamo visto di tutti i colori anche per quanto riguarda le mie finanze personali, perché gennaio e febbraio non è che sono andati proprio benissimo come mesi, visto che la mia intenzione era quella di risparmiare una media di 1700 euro al mese circa per arrivare all'obiettivo di avere da parte almeno 20.000 euro per la fine dell'anno. Lo avete visto, perché abbiamo visto insieme i passati video. Vediamo un po' che cosa succederà invece questo mese, il mese appena che si è concluso, intendo marzo. Beh, intanto ragazzi, ciao Luigi, ciao Felice, ciao Buona, ciao Daniele, ciao Dario, ciao Paolo, e sono veramente veramente contento che ci siamo messi dietro alle spalle marzo, anche diciamo l'ultima vacanza importante comandata, quella di Pasqua. Io ho mangiato veramente come se non ci fossero domani, abbiamo iniziato a mangiare praticamente giovedì. Qui giovedì, venerdì, sabato, domenica e lunedì, quasi una settimana. Qui la dieta quest'anno sta andando malissimo, meno male mi sto allenando praticamente tutti i giorni, cinque giorni su sei. Credo che non prenda peso solo per quel motivo. Allora, oggi vorrei, fatemi un secondo, mettere un po' le cose a posto, perché sono arrivato un po' tardi, perché mi ero messo a rispondere alle vostre domande che avete fatto su Instagram, e ce n'erano un paio veramente interessanti, ho voluto rispondere prima di passare a questa diretta, però adesso bisogna concentrarsi, no? Bisogna andare a rispondere effettivamente alle domande. Allora, fatemi solo vedere un paio di cose, e volevo mettervi un paio di link, che magari ci guardiamo dopo con calma, ma soprattutto aprirvi, cominciare la diretta con oggi. Tra l'altro, eccolo qui, tra l'altro ragazzi, oggi stasera alle 8 ci sarà la diretta di Sportfoglio, perché non l'abbiamo fatta ieri, e abbiamo deciso di farla oggi. Quindi praticamente stacco qui la diretta, e pochi minuti dopo ce ne ho un'altra. Allora, intanto io mi salvo queste belle immaginine. Eccole qui, scusatemi, eh. Sto facendo un po' qua i compiti, che avrei dovuto fare prima, vi dico la verità, ma oggi è stata una giornata un pochino piena, perché tra l'altro ho anche mia madre qui ad Amsterdam, e quindi eccoci qua. Ci sono quasi, ci sono quasi, 6, 7, e ancora 8. Bene, dai, mi avete fatto fare un po' di compiti a casa, vi ringrazio di questo. Allora, come va ragazzi? Come è andata la Pasqua? Anche per voi? La M dice, stato ad Amsterdam a Pasqua, che tempaccio? Dice Sergi. Beh, innanzitutto mi potevi avvisare, ci andavamo a prendere un caffè. Secondo poi, sì, ha fatto veramente una brutta Pasqua, però ti dico, lunedì dava tipo 12 mm di pioggia, invece poi ci siamo salvati, alla fine perché ha piovicicato, ma niente di che. Però, però, dicono che da venerdì arrivano i 20 gradi, finalmente, magari sarà l'inizio della primavera, io non vedo l'ora perché voglio rimettere in moto la barchetta e farmici un bel giro. Tra l'altro ho mia madre qua e mi piacerebbe questo weekend portarla fuori con la barca. Anche la M dice che stamattina ha aggiornato il suo conto economico, bene, 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 lo farò trimestralmente. Io invece preferisco gli update, a dire la verità, mensili. Anzi, ti dico, a volte è anche difficile gestirli quando è mensile perché magari non mi ricordo più alcune spese come catalogarle, eccetera. C'è stato un momento in cui pensavo di farlo settimanalmente, ci avevo provato, ma poi settimanalmente non ci riesco. È un impegno troppo grande, è settimanale. E quindi ho trovato la mia formula col mensile. Vi dico la verità, poi mi aiuta anche molto il fatto che adesso posso scaricare tutti quanti CSV dalla banca direttamente, cosa che prima non mi faceva fare. Insomma, è più semplice la gestione anche per quel motivo. Allora... Allora, allora, allora. Vince mi chiede, c'è Marco, ho una mail per contattarti? Ho provato a rinnovare Ultimate Investor, ma è scaduto perché non me la faceva rinnovare per errore. E guarda, non c'è problema, mi puoi contattare alla stessa mail con cui ti mando le comunicazioni di Ultimate Investor. Quindi scrivimi direttamente lì, mandami un'email e la gestiamo via mail. Oppure scrivimi sul numero WhatsApp che do durante le dirette, scrivimi su Instagram. Insomma, dovrai riuscire a risponderti. Magari se mi hai contattato questi giorni di Pasqua, ho avuto un po' di mail arretrate perché ho veramente fatto due giorni, almeno due giorni, domenica e lunedì, in cui ho staccato la spina. Sono contento di questo, non mi riesce sempre. Bene, bene. Allora, ragazzi, che dite? Andiamo a scartabellare, anche se io sono già stato il risultato, andiamo a scartabellare il mio conto economico. Ci sono un pochino di novità, eh. Allora. Dai, iniziamo. Sì, ho la porta chiusa. Bene. Finalmente ce l'ho fatta. Al terzo mese sono riuscito a raggiungere l'obiettivo che mi ero dato, quello di mettere da parte almeno 1700 euro almeno, perché l'obiettivo che ho è quello a fine anno di avere da parte 20.000 euro che utilizzerò nel momento in cui i mercati ritracceranno. Perché sì, i mercati dovranno ritracciare. E più tardi ritracceranno, meglio sarà per me perché avrò accumulato sempre più liquidità. Questo 2024 era iniziato piuttosto male. Gennaio e febbraio non ero riuscito nel mio intento, addirittura gennaio era andato in negativo. A dire la verità, mi devo effettivamente, devo spezzare una lancia a mio favore perché era accaduto che gennaio e febbraio avevo avuto delle spese un pochino più grandi che io non spalmo mai durante l'anno, tipo l'assicurazione sulla salute che abbiamo qui ad Amsterdam sono circa 1400 euro annuali, quelle le dovrei spalmare mese su mese. Io invece preferisco per andare a tenere un account, un bilancio per flusso di cassa. Quindi se mi si concentrano più spese a gennaio, a gennaio magari sarà un mese in cui il mio tasso di risparmio sarà basso o addirittura, come mi è successo, negativo. A marzo sono migliorate alcune situazioni ma mi ha aiutato anche tantissimo l'aver fatto budgeting. Vi ricordate avevo preparato uno, due video in realtà nei quali parlavo di cosa vuol dire fare budget perché è utilissimo nel momento in cui avete degli obiettivi che volete seguire, il budget altro non è che una previsione di quello che succederà alle vostre finanze il mese successivo, il prossimo trimestre o addirittura si può fare un budget annuale. Come vi dico sempre, dobbiamo gestire la nostra situazione finanziaria come se fossimo un'azienda. E effettivamente fare budgeting a febbraio mi ha aiutato a raggiungere gli obiettivi di cui adesso vi parlerò. Quindi vando alle ciance, vando alle ciance, andiamo subito a condividere qui lo schermo e partiamo come al solito dal patrimonio netto, ok? Allora, fatemi condividere qui lo schermo, eccoci qui. E il patrimonio netto è cresciuto un po', adesso lo vedremo perché ne parleremo, 2.496.239 euro con un totale attivo di 2.960.000 e un totale passivo di 465.288 euro. I passivi da dove arrivano? Da due prestiti fondamentalmente che sto ripagando. Uno è il prestito sul mutuo, mutuo a 30 anni per la casa, mi rimangono ancora da pagare 217.000 euro, fatemi ingrandire un pochino perché così vedete meglio. Questo ragazzi è un mutuo che ho preso, grazie ovviamente a seguire tutti gli andamenti della situazione economica, di politica monetaria, sono riuscita a prenderle, a chiudere con un tasso di interesse all'1,0,4%, quindi piuttosto basso, però attenzione ad una cosa, posso usufruire di questo tasso finché quella sarà una prima casa in cui ci vivo io. Nel momento in cui dovessi magari trasferirmi da Amsterdam e quella casa la voglio mettere in affitto, e quelli sono i miei piani, beh, dovrò cambiare mutuo, motivo per cui sto facendo anche un down payment, lo abbiamo fatto l'anno scorso, il primo anno, e lo abbiamo fatto anche l'anno scorso con Viviana, abbiamo ridato indietro il 10% della rimanenza del mutuo per accorciare il mutuo, perché? Perché a un certo punto andremo via da Amsterdam, dovremo rinegoziare il mutuo, i tassi di interesse saranno più alti e vorrò avere pagato il più possibile gli interessi della casa, e soprattutto il mio obiettivo è di arrivare intorno ai 55 anni con zero debiti. Ok, questa è una mia impostazione assolutamente personale, dal punto di vista finanziario alcuni di voi potrebbero dirlo, e hanno ragione, dal punto di vista matematico non ha molto senso, perché con un mutuo ad un tasso di interesse così basso, basta che voi quei soldi invece che darli come down payment li investite con un rendimento del 4, 5, 6%, ed ecco qui che ottenete di più di quello che stare pagando come interessi. Ma il mio obiettivo è di arrivare a quell'età senza avere nemmeno un debito, in modo tale che posso solo concentrarmi sugli attivi. È qualcosa di estremamente personale, ci sarà un motivo per cui questa materia si chiama finanza personale, altrimenti si chiamava finanza personale per tutti, giusto? Perché quel personale fa la differenza, quel personale significa che ognuno di noi è diverso, ognuno di noi vive una vita diversa, ognuno di noi ha degli obiettivi di vita diverso, dei contesti diversi, quindi quello che va bene per me, le mie scelte, i miei goal che mi do, potrebbero essere completamente sbagliati se applicati a qualcun altro, perché magari io ho semplicemente una moglie, non abbiamo ancora figli, e quindi già se stiamo parlando di una famiglia, probabilmente la gestione sarebbe, gestione gli obiettivi sarebbero diversi, perché io ho un mio carattere, ho una mia tolleranza al rischio, ho una mia tolleranza alle necessità in termini di entrate e di uscita, ho un certo stile di vita, quindi mi raccomando, questa cosa la ripeto sempre, lo so, la ripeterò sempre fino a che non vi sanguineranno le orecchie, ma è molto importante perché credo che sia veramente eticamente giusto per noi che stiamo su YouTube, me e altri miei colleghi a parlare con persone che ci ascoltano, importante non trasferire il messaggio che quello che dico io è il verbo, o quello che dice un altro YouTuber è il verbo, ecco, a me questi estremismi non piacciono proprio, sono molto pericolosi, perché rischiamo di dare dei consigli che sono estremamente sbagliati. Qua su YouTube io riporto quella che è la mia vita, la condivido con voi e voi potete prendere spunto, potete dire che quello che faccio, quello che ho intenzione di fare sono stupidaggini rispetto alla vostra vita e io la rispetterei completamente questa decisione, non credete che mi metterei a criticarla, no. Quindi questa cosa è importante. Torniamo ai nostri bel passivi. Quindi il primo prestito che ho, il passivo, è sul mutuo e il secondo è un prestito aziendale che ho utilizzato per usarlo come anticipo, per aumentare l'anticipo della casa che abbiamo acquistato. Quindi parliamo di un totale di circa 465.000 euro, degli unici due passivi che ho, che abbiamo in termini di nucleo familiare, e questa è la parte di attivi in termini di liquidità e attivi in termini di immobili. Quindi negli immobili che cosa c'è? C'è la mia barchetta che se la dovessi vendere oggi velocemente sul mercato probabilmente ci farei anche meno di 18.000 euro. Comunque adesso qui c'ho 18.000 euro. C'è il valore della casa diviso due. Diviso due perché? Perché la casa è mia e di mia moglie, quindi io nel mio stato patrimoniale metto la parte che mi compete, 560.000 euro, la mia biciclettina da 600 euro, questo è il totale degli immobili, stiamo parlando di circa 500, un po' meno di 580.000 euro, la parte grande dov'è? È nella parte di liquidità. Perché? Perché ragazzi io sono estremamente esposto sui mercati finanziari, investo da quasi 20 anni, sia in investimenti di breve termine che di lungo termine, infatti vedete che qui ho due portafogli, ho un portafoglio di lungo termine, 1.353.000 euro e spicci, e un portafoglio di breve termine che è di 103.000, probabilmente con quello che è successo oggi sul mercato questi due valori potrebbero essere un pochino più bassi perché oggi i mercati hanno stornato ed è normale, è assolutamente normale. Non ho attualmente nessuna obbligazione all'interno del mio portafoglio, ho un portafoglio di cripto che detengo dal 2000, in realtà più dal 2016, ma è dal 2017 che non lo tocco più. Questi dati ragazzi non sono aggiornati al secondo, quindi potrebbero essere un po' di più, potrebbero essere un po' di meno, sapete che per il portafoglio delle cripto sto prendendo delle, ho preso già la decisione in realtà di cominciare a piano piano ad abbassarlo, nemmeno così piano piano, che cosa vuol dire abbassarlo? Cominciare a trasformare quelle criptovalute in denaro e quindi convertendole e pagandoci, ahimè, sì, le tasse, ma perché lo sto facendo? Perché alla mia età, e mano a mano che vado avanti, non voglio sopportare i livelli di volatilità a cui sono soggetto se rimango sul mercato delle cripto, che, ve lo ricordo, sempre che non lo sappiate, voi stessi, è il mercato più volatile in assoluto, è il mercato ad altissimo rischio, e visto che la cifra comincia ad essere grande, l'avete vista, beh, voglio, e io comincio a diventare grande come età, non ho più vent'anni, quindi non ho magari voglia, tempo, ma soprattutto pazienza, e nel caso delle cripto, perché io le cripto le seguo da tantissimo, tantissimo tempo, no? Ci ho fatto tutto, ci ho fatto investimenti di breve termine, ci ho fatto investimenti di lungo termine, ci ho fatto formazione, ci faccio consulenza, sono un software developer, quindi per me fare consulenza su quella parte è normale, fatto sta che adesso voglio diminuire l'esposizione, voglio avere una situazione finanziaria più stabile, più stabile che cosa vuol dire? A minore volatilità, che vuol dire al rischio più basso, ripeto, non è questa impostazione, questa mia decisione, è estremamente personale, se la dovessi dare come consiglio a qualsiasi altra persona di cui non conosco profilo di rischio, età, obiettivi, situazione finanziaria, stato patrimoniale, eccetera, gli darei un consiglio sbagliatissimo, mi raccomando, importante queste cose. Torniamo qui, poi, questa è la liquidità sul conto corrente, 9.440 euro, qui c'è ovviamente la parte che sto mettendo da parte, qui ci sono i soldi che fanno parte di quei 20.000 euro, perché non rientrano in nessuno dei tre fondi, non rientrano nel fondo emergenza, non rientrano nel fondo extra, non rientrano nel fondo vacanze, perché sapete che io detengo tre conti, il fondo emergenza a 40.000 euro, il fondo extra ne ha 14.400, il fondo vacanze ne ha 12.000, il fondo vacanze va un pochino fatto crescere, anche se quest'anno ci siamo detti con Viviana, visto che il mio obiettivo è quello di mettere da parte, circa da questa parte qua, almeno 20.000 euro, di più in realtà, perché partivo con una cifra che era più alta, partivo da circa 7.000 euro, se ricordo bene, no, forse un pochino di meno, vuol dire che non potrò far ritornare il fondo vacanze, solitamente sta tra i 20.000 e i 25.000 euro, ok? Bene, quindi, questo, i passivi meno gli attivi, o meglio, gli attivi meno i passivi, danno questo patrimonio netto, ok? Benissimo, questo però ci dà solo una fotografia, di quello che è proprio la mia situazione, diciamo, finanziaria, ma a quello che mi interessa andare a vedere, è questo, spese, entrate, e poi il budget, ah no, scusate, non il budget, il budget è quello che abbiamo fatto, lo andremo a vedere anche oggi, la dashboard, la dashboard mi dà una sintesi, di entrate e uscite, e il delta, ovvero il tasso di risparmio, vi dicevo che gennaio e febbraio sono stati due mesi, così e così, non, non, non solo per colpa mia, mi prendo le mie colpe per carità, e infatti a marzo, vedete che finalmente a marzo sono riuscito a fare quello che non ero riuscito a fare i due mesi precedenti, cioè a mettere da parte 2208 euro, quindi anche di più rispetto a quello che mi sono dato come media, ma considerate che qui avrei dovuto essendo il mio obiettivo di 1700 euro, quindi io qui sarei oggi, ad oggi, se avessi messo da parte queste 1700 euro per tre, avrei dovuto avere 5100 euro da parte, invece da parte ce ne ho 1939, quindi comunque sono ancora in negativo rispetto al mio obiettivo, ma non vi preoccupate, ho intenzione A di recuperare aumentando il mio tasso di risparmio, B ho intenzione ogni tanto di accettare qualche consulenza che vi avevo detto nel 2024, non volevo fare per dedicarmi anima e corpo a Quanteist, e infatti quali sono state le mie entrate, andiamola a vedere, allora le mie entrate ce n'è una fissa che è il mio stipendio, il mio stipendio di quest'anno sarà di 2750 euro, che è molto più basso dello stipendio che mi sono dato nel 2023, perché è molto più basso, perché ve l'ho detto prima, ho diminuito le revenue della mia azienda, l'ho fatto come scelta, perché volendorimi dedicare a Quanteist, la mia applicazione quantitativa, beh, non posso mettere tempo su altre cose, quindi ho praticamente azzerato le mie consulenze, ho praticamente quasi azzerato la mia partecipazione ad eventi esterni, dove vengo pagato, ho praticamente azzerato le collaborazioni con attività finanziarie, broker, banche, eccetera, e quindi questo vuol dire meno revenue, mi aspetto circa un 40-50% in meno di revenue quest'anno, nel 2024 per la mia azienda, e mi è sembrato il minimo diminuirmi anche lo stipendio, quindi meno revenue, anche meno costi per l'azienda. Vedremo poi come andrà a finire quest'anno, quindi questo è stato il mio stipendio anche per marzo, è fisso, queste sono le royalties per i libri, 34,61 euro, che sono piuttosto basse rispetto a quelle dell'anno scorso, però vediamo, magari cresceranno poi nella seconda parte, e YouTube, ecco, YouTube è stata la sorpresa quest'anno, ok, perché, questo mese, no quest'anno, scusate, perché mentre ho avuto, è stato piuttosto stabile YouTube nel tempo, no, 1,368, 1,500, 1,350, qui l'estate 1,100, addirittura sono sceso luglio, agosto sono sceso sotto i 1,000, e poi però mi sono, di solito, insomma, come media, stiamo intorno a, adesso ve lo calcolo qua, velocemente, vediamo un secondo, 1,240 euro di media nel 2023, quest'anno siamo iniziati un po' più in alto, 1,400 e 1,489, questo mese 2,163, quindi, mh, sono contento di questo, parliamo di entrate per il, questo mese di 4,968 euro, praticamente, quanto quasi lo stipendio che mi davo l'anno scorso, ma questi, queste entrate mi hanno permesso, torniamo qui nel, nel, nella dashboard, mi hanno permesso di, vedete, 4,948, meno le uscite totali, che sono state 2,740, adesso le andiamo ad analizzare, mi hanno portato a 2,208, bene, andiamo a vedere queste spese, andiamo a vedere qui, le spese di marzo, allora, queste sono le spese, sul mio conto personale, e queste sono le spese, sul conto, di, di coppia, mio e di Viviana, perché noi, ve l'ho detto più volte, ve lo ripeto magari, per chi oggi guarda la diretta, per la prima volta, abbiamo preso come decisione, quella di avere un conto in comune, dove, che utilizziamo per le utilities, le bollette, per le spese di casa, per le spese di coppia, per, per quello che facciamo insieme, però abbiamo voluto anche conservarci, un po' di, della nostra autonomia, e quindi abbiamo anche i nostri, conti correnti personali, con i nostri, bancomat, e le nostre carte di credito, a me, mi è sembrata una cosa logica, perché, ripeto, io ho sempre pensato a questo esempio, se un giorno voglio portare a cena fuori mia moglie, se un giorno voglio fare un regalo a mia moglie, non voglio, doverlo fare attingendo i soldi dalla cassa comune, perché altrimenti mi sentirei in difficoltà nel quanto prendere, magari voglio fare un regalo folle a mia moglie, voglio regalare un mega weekend, in una spa bellissima, e spendere duemila euro, mi farei duecentomila problemi, per spendere quelle duemila euro, se le dovessi andare a prendere dal conto in comune, e quindi abbiamo preso questa decisione, è per questo che vedete qua nel mio conto, vedete questa parte qui, prima, e poi questa barra separatrice, e questa seconda parte, quindi fondamentalmente nel mio conto corrente personale, ho speso settecentosettantasei euro, e invece in quello di coppia, e qui ci sono anche le spese di casa, come vi ho detto prima, le bollette, abbiamo speso milenovecentosessantatré, per alcuni può sembrare tantissimo, Paolo Marco, ma spendete tantissimo, ma signori, viviamo ad Amsterdam, Amsterdam costa più di Milano, tanto per intenderci, che non è proprio la città forse più costosa in Italia, per quanto riguarda affitti, bollette, cene fuori eccetera, ma vi farò vedere, che abbiamo veramente speso pochissimo, per tutto quello che non è effettivamente essenziale, ci siamo concessi un'uscita fuori, questa è l'unica uscita che abbiamo fatto, abbiamo speso pochissimo per essere Amsterdam, cento euro in due, quindi 47,75 per uno, che infatti ho catalogato come lusso, e poi questi 165 euro, che diviso due ancora fa 82,75, è la terza rata del posto per attraccare la barca, sui canali di Amsterdam, quindi questa è la terza e ultima rata, dovrebbe essere l'ultima se ricordo bene, ma tolti questi, il resto lo guardate qua, sono tutte quante spese di sopravvivenza, qualche spesa di comfort, un Uber che abbiamo preso quando eravamo andati a cena fuori, insomma, veramente poche altre cose, infatti, queste spese qui, se vado di nuovo sulla dashboard, fanno un totale di 2740, e niente, mi permettono di avere questo risparmio, vi voglio far vedere un'altra cosa, perché vi ricordate qualche tempo fa, avevo fatto un budget, e adesso il bello del budget, il budget è una previsione, ok? Quindi, diciamo, fai una proiezione di quello che avrai, o pensi di avere, conoscendo le tue finanze, in termini di entrate, e in termini di uscite, e come puoi farlo? Beh, lo fai perché se gestisci il tuo conto finanziario, dopo qualche mese, vi dico, se cominciate a farlo dopo 3-4 mesi, già sapete quanto vi entrerà, e se fate i dipendenti è semplicissimo, è un pochino più difficile, se avete delle entrate che sono non fisse, ed è questo il mio caso, mentre invece, per quanto riguarda le uscite, sì, c'è il mese che spendete un po' di più, però bene o male, poi vi assestate su un livello, quindi fare un budget è difficilissimo, se non avete uno storico alle spalle, cioè non avete monitorato la vostra situazione finanziaria, ma, non voglio dire una passeggiata, ma diventa sempre più semplice, mano a mano che andrete avanti, e quindi, il mio budget qui l'avevo fatto, e adesso, che cosa dobbiamo andare a vedere? Dobbiamo andare a vedere rispetto al previsionale, che cosa è stato l'attuale, cioè se, quello che avevo previsto di, come entrate e come uscite, l'ho mantenuto, se sono stato più bravo, o se sono stato meno bravo, partiamo dall'entrata, è più semplice, perché sono solo 3 le entrate qua, faccio un control C, copio queste, vado in budget, dove le vado a mettere? Qua, le vado a mettere da questa parte qua, control, ops, control Z, e control shift 2, ok, perfetto, eccolo qui. Allora, che cosa vediamo qui? Qui fatemi fare per meno uno, scusate, e fatemi mettere delle parentesi, per meno uno, semplicemente perché voglio vedere, che ho fatto, per, la formula è sbagliata, perché è uguale a questo, meno questo, e non il contrario, infatti il delta è questo, e questo è uguale a questo, meno questo, perfetto, e quindi facciamo così, e l'abbiamo copiato, scusate, volevo solo farvi vedere, che cosa è successo qui, che io avevo, messo un budget di stipendio di 2750, vabbè, quella è una spesa, è un'entrata fissa, è piuttosto facile, no? Infatti il delta è zero, quel, rispetto al budget, l'attuale è stato lo stesso, qui invece sulle royalties, avevo previsto 30,9 euro, ne ho avute 34, quindi un differenziale di, ci ho messo meno di troppo qui, di 3,71 euro, di 5, niente, non ce la faccio, questa formula proprio non ce la faccio, questo, meno, questo, eccoci qua, 3,71, x, poi, e qui è dove è venuto il, la grande sorpresa, no? 563 euro di sorpresa, quindi, l'attuale è stato 2,163, il budget era di 1,6, perché sapevo che questo mese, ho avuto più visite questo mese sul canale YouTube, ragazzi, ho avuto più visite perché, non lo so, a volte succede, a volte succede che l'algoritmo di YouTube ti, espone di più, i video, magari faccio dei video che piacciono di più, hanno più consenso e più visualizzazioni, e cresce anche un pochino, quindi invece di dei 1,3, 1,4 di media, avevo messo già 1,6, però ero stato troppo conservativo, perché comunque avevo, ho incassato 560, quasi 564 euro in più rispetto al mio budget, e quindi qui ho avuto un totale, e adesso possiamo fare qua il totale, la nostra somma totale, vedete, con un delta, questo, ops, uguale, eccoci qua, vedete, praticamente, questa sorpresa qua di YouTube, è quella che mi porto dietro rispetto al previsionale, no? Il budget era di 4380 totali, ho fatto 4948, e questo è quello che ho guadagnato in più. Adesso è molto però più interessante farlo sulle spese, perché vi ricordate che cosa avevo detto l'altro, quando avevo fatto il budget, e lo potrei andare a rivedere il video sul mio canale YouTube, quando avevo fatto il budget, vi avevo detto quali erano i centri di costo, dove effettivamente volevo risparmiare, vi avevo detto, devo tagliare un pochino qua sulle alimentari, devo tagliare qua sulla carta di credito, sull'housing c'era effettivamente una, c'era una spesa che potevo tagliare, che riguardava un accumulo che stavamo facendo per il down payment, che di solito con Viviana, noi mettiamo da parte 2000 euro, una tantum, non una tantum, a intervalli per, a fine anno poi usarli per fare il down payment del mutuo, di cui vi parlavo prima, ecco abbiamo ridotto quella cifra, sempre perché il mio obiettivo più importante, qui è importante anche avere delle priorità, bisogna avere delle priorità, perché non è che le tue esigenze della tua vita sono sempre le stesse per tutto il percorso della tua vita, no, per me quest'anno è più importante mettere da parte questi, almeno 20.000 euro, per essere pronto nel momento in cui ci sarà uno storno di mercato, e quindi ho diminuito il down payment, che invece è un obiettivo che ha un orizzonte temporale di 10 anni, quindi priorità temporale, questi 20.000 euro lo devo risparmiare nel 2024, il down payment, e cioè estinguere il mutuo, lo voglio fare nei prossimi 10, quindi magari quest'anno posso permettermi di fare un down payment minore, per magari fare un down payment maggiore nei prossimi anni, no, questa è un po' la decisione che mi ha guidato, benissimo, poi i trasporti, le uscite fuori, qui abbiamo risparmiato qualcosina, le utilities c'è poco da comprimere, questa è Yoda, il mio gatto, e qui c'è poco da comprimere, perché se devo spendere il mio gatto, fa parte della famiglia, figurate se andassi a risparmiare, ora come faccio a vedere i centri di costo? Semplicissimo ragazzi, perché ho una tabella pivot mensile, eccola qui, questa è una tabella pivot che viene generata automaticamente, questo è il mese di marzo, e qui ho le spese, quindi non faccio altro che copiare, incollare queste spese che sono già sommate, queste sono delle regole, le vedete qui, che vengono impostate, e ragazzi adesso non è diciamo l'obiettivo di questo percorso, farvi imparare a usare spreadsheet, ovvero Excel, ma è molto semplice, l'ho fatto vedere anche in passato, quindi andiamo un po' a vedere, quindi copio e incollo questa parte, dovrebbe essere tutta quanta corretta, le riporto nelle spese di budget, adesso se io faccio così, eccolo qui, perfetto, c'è una voce in più, cos'è questo 39? 39, fatemi un secondo andare a vedere, questo 39 è, quindi qui ho alimentari, carte di credito, commissioni, housing, palestra, ah c'ho la palestra che non c'avevo l'anno scorso, bene, è il mese scorso, questa è una cosa che adesso vi devo confessare ragazzi, perché qui ho fatto una promessa, e non l'ho rispettata, allora, questi 149 qui, devo un attimo portarli fuori, guardate, me li appoggio un attimo qui, e questi li riporto su così, perfetto, questa la metto qui, perché qui c'era una palestra, e che cosa è successo con la palestra? Qui ragazzi mi devo, mi devo fare, mi devo tirare un orecchio, perché, mi ricordate che vi avevo detto, che quest'anno avrei voluto risparmiare il mensile della mia palestra, che costa 150 euro, 149 euro, che non è proprio poco, qui ad Amsterdam ci sono palestre che costano 29 euro al mese, questa è una palestra carina, no, è una palestra molto molto bella, è una palestra che ha lezioni, tutte le ore della giornata, quindi, e mi dà un'enorme flessibilità, perché in qualsiasi momento della giornata, e c'ha lezioni fino alle 10 di sera, dalla mattina, pensate, dalla mattina alle 6, alle 10 di sera, ogni ora ci sono, ci sono, ci sono due sedi di questa palestra, ci sono quattro lezioni per ogni sede, quindi otto lezioni ogni ora, questo mi permette, sono vicine perché Amsterdam è tutta piccolina, mi permette in qualsiasi momento, boom, di andare, di andare a, a gestire, di infilarmi in una lezione, ok, ed è comodissima, perché io col lavoro che faccio, a volte devo rimanere, perché devo prepararmi un pochino meglio alla diretta, a volte devo stare a guardare un po' meglio i grafici, a volte c'è un bug su Contest, e dobbiamo stare lì a capire, perciò la mia giornata non è molto scandita dagli orari, e ho bisogno di questa cosa, che vi avevo detto, e ho detto, va, cercherò di risparmiare questi 149 euro, e farò gli ingressi, comprerò i pacchetti di ingressi, e l'ho fatto per gennaio e febbraio, che cosa ho scoperto ragazzi, purtroppo, che andavo meno in palestra, mi allenavo di meno, e per me allenarsi di meno vuol dire metter su peso, perché i miei equilibri cibo-allenamento sono piuttosto rigidi, quindi vuol dire che fondamentalmente io mi alleno, mi alleno molto, per avere il mio stile di vita in termini di cibo e vino, e se mi alleno di meno comincio ad ingrassare, perché non riesco più alla mia età a privarmi del buon cibo e del buon vino, poi detto che io da lunedì al venerdì, io e Viviana stiamo a dieta come, mangiamo praticamente l'aria da lunedì a venerdì, poi ci diamo sotto il sabato e la domenica, soprattutto venerdì sera e sabato, domenica siamo un pochino più bravi, però fatto sta che avevo cominciato ad andare meno in palestra, perché? Perché c'avevo un numero limitato di ingressi, e quindi, ok, oggi magari non ci vado per non bruciare il, magari non c'è l'insegnante che mi piace, la lezione che mi piace in questo orario, vabbè magari ci vado domani, e a gennaio e febbraio sono andato in palestra praticamente di media, due volte a settimana, che per me è pochissimo, io mi alleno minimo quattro volte a settimana, e quindi mi sono detto che la cosa più intelligente, sia per il mio benessere di salute, sia per questa grande flessibilità, ragazzi la flessibilità si paga, esattamente come l'affitto, beh ho deciso che devo ripristinare la palestra, lo so, c'è poco da fare, e quindi ce la ritroviamo qua, questi 149 euro che non avevo messo a budget, su questo sono stato meno bravo, vedete sull'alimentari, andiamo a cominciare, andiamo a fare i delta, eccolo qui, sull'alimentari avevo detto 2,50, invece abbiamo speso 3,46, quindi quasi 100 euro in più, aspettate che tiro giù una linea, qui, carta di credito, avevo detto di abbassare molto le spese, e così non è stato, ho speso 360 euro in più di quelle che avevo detto, sono stato bravo sull'housing, ma qui non c'è niente di essere bravo, diciamoci la verità, perché fondamentalmente quello che ho fatto, ho diminuito il down payment da 2.000 euro a 1.000 euro, e quindi eccole qui che questo risparmio sta qui sopra, e poi c'ho la palestra, ora facciamo un po' la sommatoria di tutte quante le spese, eccoci qui, e qui ci diamo il, no, non voglio la somma, voglio questo, meno, meno questo, allora, rispetto al budget, non sono stato così bravo con le spese, vedete? Ecco, il budget qua mi dice, mentre se noi avessimo guardato solo la dashboard, e qui c'era solo da, per quanto mi riguarda, da farmi grandi applausi, no? Grandi pacche sulle spalle, bravo Marco, è incredibile Marco, fantastico, è 2.200 euro risparmiati, ma se vado a vedere il budget, non sono stato così bravo con le uscite, perché qui le avevo un pochino compresse, ma la verità è che, alla fine, rispetto a quello che poi ho veramente speso, a quello che sono state veramente le mie uscite attuali, reali quindi, ho fatto meno 228 euro, Marco, e allora com'è che è andato bene questo mese? e ragazzi è andato bene per questo motivo qua, è andato bene per questo motivo qui, perché ho avuto più entrate di quelle che avevo previsto, e quelle si sono riversate, riversate qui dentro, e niente, quindi diciamo solo parzialmente posso, posso darmi un po' la, una pacca sulla spalla, bene ragazzi, andiamo a vedere un po' se c'è qualche domandina, qui sopra, così rispondo a voi, e bevo anche, mi sono aperto una Coca Zero, lasciatemi bere un po' di Coca Zero, allora, Alinizar mi dice, per caso hai un corso su Excel, no, non c'è un corso su Excel, ti dico, Excel si impara piuttosto velocemente, almeno per, per queste cose che ti sto facendo vedere io, con un paio di, di ore di video tutorial, impari tutto, e quindi la cosa che ti consiglierei è questo, un libro, ti guardi un po' di lezioni su internet, su YouTube, ti assicuro che queste cose le sai fare. Nizar dice, ma le spese le riporti tu di persona su Excel? Faccio degli import automatici, diciamo dall'estratto conto bancario, e poi l'altro ci sono delle formule, quindi come hai visto, quando aggiorno un campo, se ne aggiorna un altro, però c'è una parte manuale mia, per esempio la mia parte manuale, ti dico già qual è, che è quella un pochino più rognosa, è questa qui, che va ad assegnare le categorie, e la tipologia di spesa, sopravvivenza, comfort, lusso ed extra lusso, questa la faccio a mano, e lo so che ci sono, ci sono delle modalità, per farla eventualmente in automatico, però io preferisco farla a mano, perché io so esattamente, dove andare a posizionare quella spesa, per esempio so se quella spesa, è una spesa, immaginate una spesa alimentare, no? A volte, ecco, all'alimentare mi capita di comprare al supermercato, mi capita di comprare un vino, ma è una cosa, e se compro un vino da 10-15 euro, che è un vino quindi, insomma, di entry level, una cosa è se compro un vino da 50 euro, quella spesa non è più una spesa di sopravvivenza, quella è una spesa di lusso, un lusso che mi posso permettere, certo, sono sommelier, mi piacciono i vini, è una delle mie passioni, ogni tanto mi piace bere bene, però la devo catalogare, non come, diciamo, spesa alimentare, e di sopravvivenza, ma la devo catalogare come spesa alimentare di lusso, se non addirittura di extra lusso, e quella cosa la posso fare solo io a livello umano, quindi sì, c'è una parte dove intervengo io. Allora, Daniele mi dice, perché non includi il valore delle tue aziende nel tuo stato patrimoniale? Daniele, perché voglio tenere lo stato patrimoniale il più asciutto, semplice e conservativo possibile? Vedete, le aziende sono molto volatili, no? E anche definire il, diciamo così, il valore di un'azienda, è un calcolo che io faccio quando do un valore ad un'azienda che per esempio devo, su cui voglio investire, no? E devo mettere il mio portafoglio. Beh, non è, ci sono un sacco di assumption, di assunzioni che vengono fatte, e a volte o sei troppo conservativo, o a volte sei troppo, diciamo così, ottimista, e io questo ottimismo, pessimismo, non voglio rispecchiarlo all'interno del mio stato patrimoniale. Quindi quello che dice è vero Daniele, nel senso il mio stato patrimoniale probabilmente è un pochino più alto, se ci metto dentro le mie, le mie tre aziende, quattro adesso, perché ne abbiamo aperto una quarta, sarebbe un po' più alto di questo, ma a me piace sempre ragionare sul worst case scenario, lo scenario peggiore. Quindi questo stato patrimoniale è tutto sommato uno stato patrimoniale estremamente conservativo, perché non tiene in considerazione, per esempio, il valore delle mie aziende, che se oggi dovessi venderne una, magari qualcosa in tasca mi metto, però ho preferito prendere la strada conservativa e della semplicità, perché poi tenere i valori aziendali ti assicuro che è un lavorone, perché ci devi avere sempre i bilanci tutti quanti pronti, tutti quanti corretti, tutti quanti aggiornati, ed è un lavorone. Non ho intenzione di farlo. Potrei chiedere al mio commercialista, forse, di darmi lui, mese su mese, anno su anno, il valore delle mie aziende, lo potrei mettere nello stato patrimoniale? Sì, lo potrei fare, ma di nuovo, qui vince la mia parte conservativa. Preferisco avere uno stato patrimoniale che sia più basso di quello che realmente è. Ok? Allora, M dice, perché hai deciso di rivelare il tuo patrimonio così recentemente? Cosa non ti convinceva nel farlo prima? Guarda, M, ti dico la verità, mi sono interrogato su questa cosa per anni, non mesi, anni. Mi son detto, è giusto farlo? Non è giusto farlo? Mi son detto, è pericoloso farlo? O non è pericoloso farlo? Poi ho visto che lo fanno altri youtuber, che magari parlano di, magari nemmeno parlano di finanza, e allora mi son detto, trovo giusto rompere, perché vedete, all'estero, quindi fuori dall'Italia, parlare di quanto guadagni, di quanto prendi, di soldi, di denaro, non è un tabù. In Italia è un pochino una cosa tabù, no? Per ragioni culturali, per ragioni storiche, per ragioni fiscali, in Italia, non azzardarti a chiedere ad un ristoratore, ma quanto fattura questo ristorante? Non si dice, chi sei la guardia di finanza? Non si può chiedere, no? E secondo me questa cosa deve scomparire, è un po' una legacy, eredità che ci portiamo dal passato, e deve scomparire, perché il denaro è denaro. Tanto, poco, ricco, povero, sono etichette, ok? Che vengono date, secondo me, da persone poco intelligenti, perché dire, magari uno guarda il mio stato patrimoniale, e dice, lo stato patrimoniale di Marco, è lo stato patrimoniale di una persona ricca. Io, per esempio, non mi ci sento ricco, e non faccio assolutamente una vita da ricco. Non c'è un orologio, non c'è un Rolex, non c'è una macchina, non... E praticamente, le uniche cose dove spendiamo sono viaggi, e esperienze, comunque, magari un buon vino, dei buoni vini, dei buoni ristoranti, e basta, ma ti direi che il centro di costo più presente, è quello dei viaggi. Noi partiamo con Viviana, facciamo almeno due grandi viaggi l'anno, due grandi viaggi l'anno, vuol dire due o tre settimane di viaggio, più facciamo dei micro viaggi, magari un weekend lungo, tre, quattro giorni, eccetera, dove spendiamo, spendiamo senza farci troppi problemi. Quello è il nostro vizio più grande. Questo per tornare a... sei ricco, non sei ricco, sei povero, non sei povero, guadagni poco, guadagni... E ho pensato, forse per rompere queste barriere, per cominciare a farla cambiare, questa cosa in Italia, esattamente come stanno facendo altri miei colleghi, su YouTube, visto che io non c'ho niente da nascondere, perché pago le tasse, dichiaro tutto, non c'ho proprio nulla, veramente nulla da nascondere, perché non parlarne. E quindi ho cominciato, dall'anno fine dell'anno scorso, mi son detto, vai, comincia. Sarebbe stato più carino, ti dico la verità, cominciare prima, e farvi vedere il percorso, perché ovviamente adesso queste cifre, io sono vent'anni che faccio investimenti, sono vent'anni che faccio trading, sono vent'anni che faccio risparmi, sono vent'anni che controllo le mie finanze, anche se non a questi livelli, a questi livelli ci sono arrivato più recentemente, e quindi adesso quello che vedete è frutto di un percorso durato decine d'anni. Sarebbe stato bello percorrere dall'inizio, non l'ho fatto dall'inizio, lo faccio in questa seconda fase della mia vita, meglio tardi che mai, no? Spero possa essere utile a qualcuno, non per confrontarsi e sentirsi, ah, non ci arriverò mai, oppure, ah, ma Marco fa tutto questo e ha così pochi risparmi, no, per far capire come, secondo me, cosa secondo me vuol dire indipendenza finanziaria. Per me indipendenza finanziaria non vuol dire averci una cifra, non c'è una cifra, l'ho abbandonato il concetto di livello. Per me indipendenza finanziaria vuol dire solo controllo totale delle proprie finanze, e io credo di avere un controllo, non dico totale, ma è vicino alla totalità, quindi so perfettamente quello che succede all'interno delle mie finanze, esattamente come so perfettamente quello che succede all'interno dei bilanci delle aziende su cui ho investito e che stanno nel mio portafoglio. Lo voglio sapere, lo devo sapere, e quindi per quale motivo non dovrei sapere se monitoro i bilanci, i conti economici e le stati patrimoniali delle altre aziende, perché diavolo non dovrei farlo per me stesso, giusto? Pier mi dice, domanda forse un pochino personale, come gestisci il conto condiviso? Mettete entrambi una cifra fissa mensile. Sì, Pier, ti confermo, facciamo esattamente in questo modo. Mettiamo una cifra mensile, forse nemmeno è mensile, certe volte dipende dalle spese, magari abbiamo dovuto avere una spesa di casa e quindi abbiamo messo una cifra due volte al mese, tendiamo a mettere la stessa cifra, quindi la gestiamo in questo modo. Lo sai magari un giorno che sarebbe carino fare? Invitare Viviana a queste dirette e far parlare anche lei, perché così sentite anche l'altra parte, no? Magari escono fuori degli altarini, delle cose che non diceva a me e che dice qua in diretta. Allora, Achille dice, non avevi detto che il gatto, la spesa non è da diminuire? Assolutamente no, mai diminuire la spesa per il gatto. Quello che tu hai visto, probabilmente Achille, fatemi rimettere qua perché Achille si riferisce, non mi toccate il mio gatto, questi 39 euro, a questo guarda ti riferisci sicuramente a questa cosa qua, spese mensile pivò, qui avevo speso, no gennaio scusami, a febbraio, avevo speso per Yoda 167 euro, perché ci sono state delle spese impreviste, abbiamo comprato, o meglio non sono state impreviste, c'è stata un'offerta sul cibo, ne compriamo per Yoda il cibo diabetico, perché lui è diabetico, uscì uno sconto, e abbiamo comprato, abbiamo fatto grande scorta, quindi probabilmente ci durerà per, l'abbiamo comprata a febbraio, ci durerà, ti direi fino a forse tutto aprile, sì, fine aprile, quindi quella spesa di nuovo, la mia gestione, il mio accounting va per flusso di cassa, perciò l'ho messa tutta quanta sul mese di febbraio, anche se alcuni, che cosa fanno? La spalmano sulla durata effettiva di quel bene, quindi quel bene ti dura tre mesi, quindi 167 euro diviso tre mesi, io non faccio così, di nuovo, perché? Perché è giusto quello che faccio io, è sbagliato quello che fanno gli altri? No, assolutamente no, io ho voluto scegliere quella strada, semplicemente per semplicità, di nuovo, semplicità, già è difficile tenere traccia delle cose, stare lì, costanza, consistenza, eccetera, poi, se te le rendi pure complicate, almeno io, se me le rendo complicate, non le faccio più, quindi, e torniamo qua, questo, questi 90 euro di marzo, per il nostro, 39 euro di marzo, per Yoda, sono, frutto, che poi sono 78 in due, sono frutto del, abbiamo comprato, le siringhe, le siringhe, le siringhe per iniettargli l'insulina, ok? anche qui, c'era un'offerta del 20%, su questo sito internet, che utilizziamo, e le abbiamo comprate, allora, fatemi vedere un po', di vostre domande, allora, qui c'è una buona domanda, che adesso gli rispondo, però un secondo solo, un secondo solo, che è una domanda molto pericolosa, eh? Antonio dice, per il prossimo mese, usi i valori del mese di marzo? Allora, Antonio, ti riferisci al budget, potrei usare quelli di marzo, ma so che marzo potrebbe essere stato, un outliers, per quanto riguarda, eh, l'entrata di YouTube, quindi, che cosa, mi viene da dirti qua? Torniamo un secondo al budget, torniamo al budgetone, che sta qui, allora, sulle entrate, mi, mi manterrei conservativo, e farei queste, non terrei questa entrata qua, ehm, quindi devo andare di nuovo, a lavorare su questo fronte, e quali sono stati due centri di costo, dove non sono riuscito a contenere i prezzi, i costi, come mi avevo, le spese, come avevo detto, questi due, alimentari e carta di credito, qui sopra, ho speso, praticamente, quasi 500 euro in più, di quello che mi ero dato come budget, quindi qui, è dove devo andare a recuperare il prossimo mese, considerando che già so che, ci avrò sti 149 euro, che non c'avevo l'altra volta, quindi, non necessariamente uso quelli di marzo, applico un po' di buonsenso, andate ad analizzare quello che è stato, quello che è stato il passato, quelle che sono state le mie medie, analizzando aprile, che mese sarà aprile, per esempio aprile per fortuna, non dovrei viaggiare, o meglio, vado a Milano a fine aprile, il 28, 29 aprile, ma non viaggiare per me vuol dire anche meno spese, perché quando sto a casa qui, ho la mia routine, faccio le mie cose, mi alleno, mangio a casa, mi porto il cibo in ufficio da mangiare, non mangio meno fuori, quando sto fuori spendo di più, e febbraio e marzo sono stati due mesi che ho viaggiato, sono stato in Italia svariate volte, sono stato a Milano, sono stato a Torino, sono stato, no, a Roma no, sono stato a Napoli per la conferenza, quindi, ok, allora, Alessandro mi chiede, interessante questa domanda, e ci devo pensare però a risponderti, nella tua finanza personale, dove pensi di essere molto bravo, e dove pensi di essere meno bravo? Ti dico la verità, non mi sento molto bravo in, nella gestione delle finanze personali, in nessun'area particolare, solo una cosa mi viene da dire, dopo essermi monitorato attraverso il mio conto economico, e i miei bilanci, di essermi reso conto che la mia vita è una vita tutto sommato semplice, è una vita dove ho delle uscite, ma quelle uscite sono, diciamo, le uscite più grandi, sono concentrate su pochissime cose, non ho grandi vizi, a dire la verità, perché se dovessi pensare a dei vizi, di nuovo, due me ne vengono in mente, guardando il mio conto economico, vino e cibo, e viaggi, questi sono i miei unici due vizi, ma, soprattutto per i viaggi, che è il vizio più grande economicamente parlando, com'è che l'ho rispondertato? l'ho risolta questa cosa, beh, l'ho risolta con il fondo. Ho un fondo vacanze, che adesso è un pochino più piccolo, perché gli abbiamo dato, gli abbiamo dato una sdraiata, con la vacanza di dicembre e gennaio, siamo andati in Peru, Ecuador e Galapagos, ma che questo solitamente sta attorno alle 20-25 mila euro, quindi è poi da lì che andiamo a prendere i nostri soldi, e quindi sapendo quello che era effettivamente il nostro vizio, abbiamo trovato una soluzione, finanziariamente parlando, utilizzando un fondo. Perciò mi viene da dire questo, la mia vita è veramente facilmente comprimibile, perché la verità è che c'è poco da comprimere, non ho grandi vizi, quindi, sapete, secondo me non avere grandi vizi è un estremo vantaggio, perché nel momento in cui dovessero, magari arriva un momento della tua vita in cui le tue entrate cominciano a diminuire, in maniera importante, e io so che riuscirei a sopravvivere, perché non è che io devo andare, mantenere una o più macchine, devo, cioè i costi di spostamento con la benzina, devo per ragioni sociali, di socialità, devo uscire cinque volte a settimana, devo andare al ristorante quattro volte a settimana, devo andare tre volte in discoteca e ci devo avere il tavolo riservato, io non ho questo tipo di cose, non ho, ripeto, non ho orologi, non ho nessun tipo di collezionismo, anzi, negli anni, ecco, una cosa Alessandro va a risponderti, quello a cui sono stato bravo, è abbandonare sempre di più il materialismo, cioè quello di collezionare oggetti, beni, beni che non ti servono, beni che compri perché stai in realtà soddisfacendo un altro impulso, ma non di certo quello dell'utilità, quindi mi serve quello in cucina, a me piace cucinare, quindi mi serve quel gadget, vedo qualcosa di carino che mi piace, che potrei usare, lo compro, poi magari scopro che non lo compro più, ecco, sono diventato bravo a limitare questa parte qui, che è molto importante, vi assicuro fa la differenza, in che modo? Con delle regole, vi dico la regola che funziona di più con me, per diminuire gli acquisti impulsivi, è quello di non comprare mai in maniera frettolosa, e di darmi sempre 24 ore, avete presente quando vedete qualcosa e dite, cavolo questa me la devo comprare, ce la devo avere, mi serve, e io mi dico, ok, perfetto, mettila nel carrello, e la riguardi dopo domani, se anche dopo domani la guardi, e ti dici, mi dico che effettivamente quella, quel bene, quell'oggetto, mi serve veramente, cambia in qualche modo, la mia vita di tutti i giorni, allora lo compro, facendo questo semplicissimo esercizio, che sembra di una stupidità, e banalità enorme, e lo è, per quanto mi riguarda, è cambiata in maniera importante, la mia situazione finanziaria, perché quelle spese non ce le ho più, e perciò, so che io posso vivere veramente, con poco, credo che sia questo il, i miei pregi, i miei difetti, ripeto, non credo di avere, particolari pregi, perché poi alla fine, sulla mia gestione finanziaria, a volte faccio, faccio fatica, a volte non, a volte non mi va, o di tenere traccia, non mi va di mettermi lì, mi devo forzare, a volte, alzo sempre, un'altra cosa che faccio, alzo sempre l'asticella, no, sempre più in alto, mano a mano, che forse è normale, anzi sicuramente sarà umano, però a un certo punto, questo alzare sempre di più l'asticella, ti porta, ti può portare, a rischiare di essere un po' sempre infelice, perché è come se non raggiungi mai, il tuo obiettivo, quindi devi essere bravo, invece a rimanere con i piedi per terra, a vivere il presente, non vivere troppo il futuro, ecco io dal punto di vista finanziario, questo è stato un mio difetto, da quando avevo 16 anni, ho sempre guardato il futuro, e a volte col rischio, a volte di godermi poco il presente, e adesso che cresco e sono cresciuto, vorrei invece vivere di più il presente, c'è un bellissimo libro che ho letto sul presente, sull'attimo, se mi ricordo il titolo, ve lo faccio sapere, ma ci devo un attimo pensare. Allora Luigi dice, per me ci sono spese non transingibili, medicinali, il mio primo caffè al bar, Enel, gas, acquedotto, per ragioni sprovviste di servizi, e obbligo spese auto. Certo ci sono delle spese, che non possono essere compresse Luigi, assolutamente. Allora Donato dice, Marco praticamente il trading puro, non contribuisce molto alle tue entrate, è stressante dedicarci tanto tempo? Allora Donato, ho parlato tante volte di questo aspetto, diciamo che, io sto sui mercati da, veramente una ventina d'anni, ok? Ed è cambiato molto il mio approccio, il mio stile di investimento, sia nel breve che nel lungo periodo. Più divento grande, e più mi accorgo di essere diventato conservativo, e più mi accorgo che il piacere della vita non è quello di stare ore e ore davanti ai grafici a guardarli muoversi. Magari quell'adrenalina ti piace di quando sei giovane, magari quando sei giovane vuoi, e hai voglia di investire quattro, cinque, sei, otto ore al giorno guardando i grafici come un'automa, e c'è stato un periodo della mia vita che l'ho fatto. In questo momento della mia vita non voglio che il trading diventi un lavoro, perché ricorda di sempre una cosa, quando tu fai un'attività, come può essere investimenti di breve termine, di lungo termine, ma da lì ci devi tirar fuori dei soldi, a quel punto quello diventa un lavoro, e a quel punto voglio che diventi un lavoro, e voglio che l'erevino di quel lavoro, cioè lo stipendio, sia anche di un certo tipo, sia equiparato. È ovvio. Perché? Perché uno devi sempre pensare al costo-opportunità. Cioè, se io dedico otto ore al giorno davanti ai grafici, vuol dire che quelle otto ore al giorno non le dedico ad altre cose, ad altre attività, potenzialmente addirittura che potrebbero essere ugualmente o più remuneranti. Quindi io che decisione ho fatto? Quella di a un certo punto usare l'investimento di breve termine semplicemente per aumentare il mio portafoglio di lungo termine. Quindi il mio conto di trading, quindi di breve termine, le performance le uso per, quando a fine anno le scarico, riporto il conto alla stessa cifra, solitamente il mio conto sta tra i 80, 90, 100 mila euro, quello è il mio conto di trading, oscilla tra gli 80 e i 120, l'avete visto prima, no? Adesso sta, ve lo faccio rivedere qua, tra gli attivi, questo momento sta a 103 mila. A fine anno tolgo le performance e le metto sul lungo termine. Perché? Perché il lungo termine sarà la mia pensione. In che modo? Quando il mio portafoglio di lungo termine sarà cresciuto ad una cifra a cui sto puntando, beh, a quel punto mi genererà una rendita passiva con zero stress, con zero, praticamente quasi zero, tempo di manutenzione. Non è vero, perché comunque le aziende nel tuo portafoglio che ti staccano i dividendi, li devi comunque controllare, magari un'azienda tra qualche anno stacca i dividendi, la devi sostituire, quindi c'è sempre del lavoro, non credete mai che ci sia, ma i soldi gratis non esistono, ok? C'è sempre del lavoro da fare, ma è un lavoro di quel tipo molto più ridotto e molto più rilassato. Quindi questo è il mio modo, alla mia età, dopo vent'anni di mercati, di gestire il trading. È giusto? È sbagliato? Non lo so. È giusto per me. È giusto per me in questo momento della mia vita. Perché dieci o quindici anni fa ti assicuro che era completamente diverso. Dedicavo molto più tempo al breve termine, perché lo volevo far crescere. Tutte le strategie che mi sono creato nel tempo per il breve termine, quelle che insegno anche nel mio corso, sono strategie che sono nate nel periodo in cui facevo investimenti di breve termine in maniera intensa. Oggi le uso, certo, le uso in maniera diversa, con time frame più rilassati. Oggi faccio più swing trading che intraday. Ci sono operazioni di intraday, nella trading room, se c'è qualche studente qua in chat te lo può dire. Ci sono operazioni che apriamo la sera prima e chiudiamo il giorno dopo e nemmeno stanno a mercato 24 ore. Ma vi direi che la maggior parte sono strategie che durano, intendo posizionamenti che durano due, tre, quattro, cinque, un mese, un mese e mezzo anche se abbiamo preso un bel trend rialzista o ribastista e ce lo vogliamo percorrere tutto. Ok? Quindi questo è come è cambiato nel tempo il mio approccio e ripeto è il mio approccio che fa parte del mio carattere, fa parte del, di quello che mi fa stare sereno e tranquillo. Quindi non mi sentirei mai di criticare chi invece decide di stare dieci ore davanti al monitor a far trading perché lo eccita, perché sta, si sente adrenalina, perché fa crescere il suo capitale in maniera più veloce, su questo ne potremo discutere per giorni sulla velocità perché non credete che le ore davanti ai grafici, cioè più ore vuol dire più profitti, non è così. Allora, Isaacs dice ciao Marco apprezzo molti i tuoi video ho 21 anni mamma mia quanto sei giovane 21 anni che bello guarda ragazzi quando mi scrivete ho 20 anni ho 18 anni ho 25 anni avete davanti la vostra vita finanziariamente parlando vi dico l'ho detto ad un ragazzo di 18 anni l'aveva portato il padre me l'ha presentato a Investing Napoli l'aveva portato alla conferenza e gli ho detto guarda lo sai qual è il bello della tua età è che se non ti fai divorare dall'impazienza e non ti fai divorare dal voler bruciare le tappe a 18 anni se cominci a fare quello che stai facendo te cioè investire 300 euro al mese mentre stai studiando e finendo l'università tu diventerai milionario matematicamente è quasi matematicamente sicuro è altamente probabile che diventerai milionario in una ventina d'anni cioè non avete possibilità di sbagliare lo potete fare proprio con tutta la calma facendo errori veramente non fatevi prendere dalla fretta allora felice mi dice Marco entrare in questa mentalità è veramente un passo importante se si è ferrei nel rispettare nel rispetto del piano programmato come consigli i risultati sono veramente straordinari lo faccio già da un po' ed è vero felice lo so perché ci conosciamo con felice ci siamo visti anche a Napoli quindi sì Philip sì Numbers, Excel, Spreadsheet di Google sono tutti quanti lo stesso software Moira dice il prossimo viaggio posso organizzartelo io sono un agente di viaggio allora Moira ti dico la verità mandami un'email perché nella vita non si sa mai però noi tendiamo a organizzarceli da noi cioè ormai io viaggio da quando ho 16 anni e mi piace il viaggio mi piace organizzarmelo da me anche perché l'organizzartelo da te già ti costringe tra virgolette in senso positivo a studiare quel posto perché cominci a vedere i video degli altri che sono stati in quel posto cominci a leggere la guida cominci a vedere la storia e ti fai un'idea di dove vuoi andare te e quanto tempo vuoi rimanere quindi noi siamo abituati a farcelo da soli però ci sono alcuni posti dove effettivamente per esempio in Ecuador per andare alle Galapagos abbiamo chiesto aiuto ad un'agenzia perché soprattutto per fare la spostarsi capire alcune cose eccetera serviva era più facile farlo con un'agenzia quindi scrivimi una mail ci teniamo in contatto magari un giorno ti chiediamo assolutamente un consiglio molto volentieri allora allora Giagallo Jagal mi chiede ciao Marco riguardo Contest se uno ha già esperienza nel trading con quale capitale minimo ritieni opportuno abbonarsi al portafoglio rotazionale ora ti rispondo in maniera molto semplice non c'è assolutamente una cifra minima innanzitutto perché ognuno lo può lo diciamo lo può seguire o io dico sempre i portafogli rotazionali di Contest che sono i portafogli che utilizzano l'intelligenza artificiale per creare i posizionamenti sono portafogli che a me non sono segnali ecco mi piace dire questo ma vi aiutano secondo me meglio a capire come si sta posizionando l'intelligenza artificiale che fa in maniera straveloce e precisa perché guarda solo i dati quindi zero emozioni come si sta posizionando in questo momento in quali settori in quali industrie quali sono le aziende che gli piacciono e che quindi metti in portafoglio per me vedete usare Contest e i portafogli rotazionali in questo modo è molto più potente che scopiazzare l'aziendina che c'è nel portafoglio e copiarla perché con quello fai solo un dash è come se stessi semplicemente prendendo la punta dell'iceberg ma c'è tanto tanto di più per questo mi sento di non dirti con qual è la cifra perché non ci ho mai pensato e non è non sono nati per quello ecco video editing mi chiede ti sei comprato il pixel no perché non è uscito in sconto è uscito in sconto in Italia perché gentilmente due ragazzi due di voi due della community mi hanno avvisato e mi hanno detto guarda Marco c'è il 20% di sconto ma non l'ho trovato qua in Olanda quindi c'era su una volta lo stava facendo proprio il sito di Google e una volta su Amazon ma ho controllato Google NL Netherlands e Amazon Netherlands e non c'erano gli stessi sconti me lo sarei dovuto comprare in Italia farmelo spedire dall'Italia e poi dall'Italia farmelo spedire qui o prenderlo nel viaggio mi sono detto vabbè aspetto tanto i prezzi scenderanno e le offerte ci saranno quindi ancora non l'ho comprato Giuseppe dice che bello vedere due persone che dividono equamente le spese c'è chi si considera un vero uomo se non paghi tutto la tua donna per fortuna ci si evolve allora Giuseppe in questo momento di sempre più uguaglianza tra uomo e donna mi sembra veramente il minimo detto che a volte io ho piacere esattamente come a piacere Viviana a volte andiamo fuori e Viviana vuole offrirmi lei la cena vuole offrirmi lei un weekend e ci sta è giustissimo è assolutamente giustissimo ragazzi siamo nel 2024 non è che ti devi sentire uomo se paghi il ristorante alla tua donna e non ti devi sentire uomo se non glielo paghi credo che il sentirsi uomo o il sentirsi donna in una coppia vada ben oltre questo aspetto estremamente superficiale lasciatemi dire allora sei fortunato Marco che hai una donna che accetta di dividere le spese equamente pieno di uomini che vengono spolpati dalle mogli mi scrive Massimo ti dico due cose Massimo la prima sì sono estremamente fortunato ma lasciami dire una cosa la fortuna te la costruisci te la fai nel senso che vedete i parenti non te li scegli si dice no i parenti ti capitano sono quelli ci nasci e nasci in quella città con quei parenti non ci puoi fare niente ma gli amici la tua cerchia sociale la tua compagna tua moglie o tuo marito il tuo compagno beh quelli ti li scegli quindi lasciami dire a un certo punto ognuno io sono sempre di questa idea ognuno ha quello che si merita perché in un modo in un altro l'ha scelto perché attenzione rimanere in una situazione che non ti fa stare felice o che non ti fa sentire apprezzato non scegliere di interrompere e cambiare quella situazione è essa stessa una scelta quindi quello che dici è vero sì sono fortunato assolutamente ma lasciami dire l'ho anche cercata sono stato fortunato a trovarla assolutamente le mie ricerche sono state sono andate a buon fine non sempre succede è vero allora 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 ehm voglio segnarmi una cosa magari ne parlo non mi è venuta in mente adesso mentre parlavo con voi eh magari ne parliamo visto che adesso è già un'ora e mezza che stiamo qui ehm perché c'era una domanda c'era una domanda c'era una domanda c'era una domanda a cui volevo rispondere perché è estremamente pericolosa vediamo se la ritrovo eh datemi solo qualche secondo un altro boccetto di coca allora eccola qui c'è Daniel questa è una domanda pericolosissima a cui devo mi sento veramente in dovere di rispondere ho il mio fondo di emergenza investito su un etf che mi fa il 7% di media è una buona strategia no assolutamente no e vedi te lo potrei spiegare in mille modi ma se secondo me c'è una metafora che posso utilizzare per spiegartelo al meglio ed è questo cioè la correlazione che esiste tra il tuo lavoro e il rendimento dei mercati vedete questa è una questione a cui non si non ci si non ci si presta non ci si presta attenzione non ci si pensa molto ma questi due andamenti sono praticamente inversamente proporzionali mi riferisco alla disoccupazione quando si alza il tasso di disoccupazione e l'andamento dei mercati che solitamente quando si alza il tasso di disoccupazione i mercati tendono a scendere adesso spiego anche il perché ma è su questo che ti voglio far ragionare avere un fondo di emergenza che risponde esattamente come dice la parola stessa risponde ad un preciso obiettivo la emergenza avercelo su un etf sull'azionario su un mercato che comunque è volatile dispone a rischio enorme di dover accedere a quel fondo di emergenza esattamente quando magari stai affrontando un drawdown quindi stai affrontando una discesa rispetto alla tua equity line e quindi dover chiudere la posizione perché ti serve quel denaro ti servono quei soldi per l'emergenza che ti è capitata magari un'emergenza in famiglia un'emergenza di salute rubata la macchina si è rotta la macchina non lo so qualsiasi tipo di emergenza e quindi farlo nel momento più sbagliato possibile vedete se ci pensate un momento in cui potreste aver bisogno di accedere al fondo emergenza quando è magari è proprio quando perdete il lavoro quando magari venite messi in cassa integrazione o venite peggio ancora venite licenziati e e quando è che di solito si perde il lavoro economicamente parlando pensate ai cicli economici senza dover essere esperti economici magari se hai perso lavoro è perché stiamo affrontando un rallentamento economico peggio ancora magari siamo in una recessione o peggio ancora siamo in una depressione lo sapete qual è la differenza tra recessione e depressione questo è un po' un gioco che si raccontano gli economisti bene si è in una recessione economica quando il tuo amico perde il posto di lavoro siamo in una depressione economica quando anche tu perdi il posto di lavoro per farvi capire l'entità no delle due situazioni fatto sta che è proprio in questo momento che si tende a perdere il lavoro ed in questo momento potresti aver bisogno di accedere al tuo fondo di emergenza e quindi i mercati in questo momento che fanno di solito adesso ve lo faccio vedere con qualche grafico ve lo cerco qua su google per farvi capire questa correlazione e farvela visivamente vedere i mercati scendono perché se sei perso il lavoro se siamo in depressione se siamo in recessione in depressione o recessione magari i mercati hanno fatto un meno 10 meno 15 meno 20 per cento e tu in quel momento vuoi andare a togliere i il tuo denaro e portarti a casa quella perdita magari se avessi aspettato 4 5 6 mesi quella perdita l'avresti completamente recuperata ed è questa questa è la risposta per cui non si deve tenere un fondo di emergenza in niente che non sia estremamente liquido e convertibile velocemente in liquidità senza però causare di doversi beccare la volatilità di uno strumento finanziario come quello che di cui stai parlando te di questo ne ha parlato anche Kahneman Daniel Kahneman che ahimè è scomparso settimana scorsa qualche giorno fa premio Nobel padre dell'economia comportamentale della finanza comportamentale veramente ha gettato le basi e lui stesso dice che il cervello umano non è fatto per lavorare molto bene con la statistica e con le probabilità e soprattutto è portato a prendere pessime decisioni proprio in momenti di stress momenti di paura momenti in cui non ci si sente sicuri e quindi dobbiamo come investitori o come risparmiatori dobbiamo cercare di evitare di doverci trovare in quelle situazioni guardate andiamoci a prendere un po' dei grafici fatemeli un attimo cercare qui allora questo è un grafico guardate che grafico vediamo l'S&P 500 è la linea rossa vedete scende sale dal 2000 quindi abbiamo avuto la bolla di internet e l'unemployment claims ovvero sono le richieste di disoccupazione su scala invertita quindi fondamentalmente quando sale vuol dire che stanno chiedendo più richieste di disoccupazione quindi c'è meno disoccupazione quando scende esattamente il contrario vedete come sono correlati questi due grafici guardate scende 1 scende l'S&P 500 sale 1 sale l'S&P 500 e così via questa è la correlazione veramente spiegata in un grafico eccone un'altra guardate il in blu il tasso di disoccupazione il cambio su 12 mesi misurato su 12 mesi del tasso di disoccupazione e l'andamento dell'S&P 500 guardate ogni volta che il tasso di disoccupazione ha avuto un cambio maggiore del 5% questa linea qua l'S&P 500 è sceso sceso qui è sceso qui è sceso qui capite quanta correlazione c'è e quindi sapete guardate in questa tabella ci sono le perdite del mercato azionario tra il 1928 e il 2021 quando ha perso quindi ha avuto un ritracciamento del 5 del 10 del 20 del 30 del 40% o peggiore guardate una cosa concentriamoci sulle prime due linee cioè quando il mercato ha avuto in questa in questi 70 no scusate in questi 90 anni ha avuto più del 5% di ritracciamento il 95% delle volte praticamente vuol dire che quasi una volta l'anno sempre il mercato ha un ritracciamento del 5% più del 60% delle volte in un anno il mercato ritraccia almeno il 10% qui la frequenza è molto alta e per tornare alla tua domanda di prima fondo di emergenza su un etf vuol dire che questo etf immagina che tu devi prendere quel fondo d'emergenza quando ti ha fatto un 5 o un 10% che sono occorrenze molto alte tu vuol dire che ti porti a casa questa perdita guarda qui la mediana di quanto del declino del prezzo dell'S&P 500 durante le recessioni beh la mediana è del 24% ci sono stati momenti in cui ha avuto più 36% di ritracciamento 48% ma questa è la mediana quindi vuol dire che tu ti stai esponendo al rischio di poter dover andare a riprendere il fondo di emergenza quando magari ti trovi in una situazione di questo tipo quindi mi raccomando scusatemi scusatemi perché sa che è Viviana è mia moglie sa che non deve chiamarmi a quest'ora se mi chiama visto che sta in aeroporto non vorrei fosse qualcosa di importante fatemi fare questo 10 secondi diceva pensavo avessi finito niente di urgente quindi non guarda le mie dirette Viviana tornando a noi tornando a noi il fondo di emergenza si tiene su un conto deposito il fondo di emergenza si tiene su delle obbligazioni a brevissima scadenza le obbligazioni ragazzi già hanno una volatilità decisamente inferiore rispetto ad un etf su un indice su un azionario o non so dove quindi quelle situazioni sono più facilmente convertibili in liquidità ma soprattutto sono più convertibili in liquidità senza dover sottoporsi al rischio di avere una grande perdita perché le oscillazioni delle obbligazioni sono molto inferiori e nel frattempo comunque avete dei rendimenti perché sarebbe un peccato ottenere il vostro fondo di emergenza che magari ha 12-24 mensilità come il mio il mio fondo di emergenza è di 40.000 euro farlo tenerlo lì fermo ad essere eroso dall'inflazione senza nemmeno generare un pochino di reddito beh è un peccato quindi o lo tenete su un conto deposito o lo tenete su qualche obbligazione a breve termine potrebbe anche essere un etf monetario no? di queste cose ne ho parlato in un video andatevi a vedere anzi due video in cui vi ho parlato di dove tenere i vostri risparmi come investire i vostri risparmi se non sapete nulla di finanza ci ho fatto due video e quindi ho parlato di conti correnti conti deposito vantaggi rischi pregi obbligazioni etf monetari queste vi direi che sono le quattro modalità semplici veloci convertibili quindi liquide non illiquide convertibili in liquidità velocemente e che non hanno grossi drawdown perché gli etf monetari fondamentalmente rispecchiano in termini di rendimento e di movimento i tassi di interesse ed è per questo che adesso pagano bene per quello mi raccomando ragazzi non fate questi errori soprattutto voi che siete su questo canale di finanza personale non si tiene investito sui mercati finanziari il fondo di emergenza altrimenti non è un fondo di emergenza e allora state investendo i vostri risparmi un'altra cosa ieri non avete fatto Michele Davide la live con Gigi e gli altri la facciamo oggi la facciamo stasera alle 8 assolutamente un'altra cosa bene bene ragazzi dai sto vedendo qualche altra direi di chiudere qua oggi dai ci siamo fatti un'oretta e mezza io tra un'ora c'ho un'altra diretta e c'ho un'altra diretta tra un'oretta anzi ci vediamo su Sportfolio con Gigi Buffon Ciccio Valenti e Davide Biocchi che di nuovo oggi per la quinta volta l'intelligenza artificiale ha battuto l'esperienza di Gigi Buffon quindi dobbiamo dirlo stasera c'è la Juve beh la Juve allora la seguiamo in diretta stasera mentre facciamo la diretta bene ragazzi dai grazie mille per l'attenzione ci vediamo domani diretta alle 13.30 domani facciamo un po' il punto sui mercati finanziari che oggi insomma hanno un pochino si è mosso anche lo zucchero mi ha scattato un bel alert interessante il candelotto di oggi sullo zucchero bene 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 anche Bitcoin è tornato a 65k bene anche quello molto molto buono S&P 500 il Nasdaq fa un meno 1% praticamente torna sulla candela del 20 marzo bene bene ne parliamo domani alla diretta alle 13.30 bene grazie mille ragazzi io vi auguro una fantastica serata ma ci vediamo tra un'ora sul canale di Sportfolio mi raccomando non mancate ciao 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 ciao